Un campo estivo multidisciplinare per far vivere ai bambini dai 6 agli 11 anni 5 giorni di sport all'aria aperta all'insegna del divertimento. E' questo il ricco menù dell'Happy Meal Sport Camp 2012 organizzato dalla nota catena McDonald's che si concluderà il 7 settembre. Un'occasione per i piccoli per imparare giocando con nutrizionisti ed esperti di attività motorie l'importanza dell'educazione fisica, del movimento e del mangiarsano. Testimonial d'eccezione della manifestazione il campione olimpico Antonio Rossi. L'importante è fargli provare lo sport che poi possono venire a fare qui al CUS e soprattutto che stando assieme perché poi non sono ragazzi che si conoscono, si sono incontrati qua, l'importante è che si divertono assieme, è un modo per stare insieme tutti quanti e insomma anche per chi ha carattere magari un introverso che possa aprirsi. Grazie a tutti.